A questo punto volevo spiegare un attimo il nostro inizio con delle teorie. Dunque, qui è aperto il disegno rappresentativo dei muscoli facciali dell'uomo. I muscoli dell'occhio avvolgono il bulbo oculare in senso circolare e lo fanno muovere, stessa cosa vale se dire per la bocca. Per questo, quando abbiamo costruito in 3D l'inizio del nostro volto, abbiamo cercato questa costruzione che ci permettesse di inserire degli edge loop che imitano l'andamento dei muscoli sotto pelle, quelli principali. Vedete? E intendo quelli sotto pelle, non quelli che stanno sotto il grasso, per esempio come sotto la guancia. Perché in questo caso ci conviene di più seguire l'andamento delle pieghe che si formano sul volto. Così, in questa direzione qui. Se torno ad esempio nella foto reference del personaggio che sto modellando io, si vede chiaramente l'andamento di come la pelle viene deformata dai muscoli durante una loro espressione. Se noi modelliamo seguendo questi principi, non sbaglieremo praticamente mai.